Dottore, è stata un'indagine lampo che nell'arco di poche ore ha assicurato la giustizia e la responsabile, l'autore della sparatoria che si è consumata in via Trieste. Il dato più preoccupante che emerge in quest'altra vicenda è che si spara in piena piazza alla presenza di numerosi eventori e questo, come dicevamo, è preoccupante. Sì, non ha nessuna motivazione, potrebbe giustificare appunto un gesto del genere. Posso solo dire che come altri episodi, la chiave di lettura che abbiamo dato e che anche in questo caso l'autore ci ha confermato alla presenza del suo avvocato, non resale a motivazioni apparentemente legate a business criminale o a situazioni simili, ma bensì a una assurda e folle reazione da parte dello sparatoria nei confronti del ferito per una loro lite avvenuta il giorno prima. Ribadisco, nessuna motivazione può autorizzare un essere umano a rispondere a un dorto subito. Devono venire in polizia a fare le denunze e ci pensa la legge a sanare le varie frizioni che si possono verificare. La cosa invece è brutta, lo dico con molta convinzione, che lei dice bene, c'era molta gente, ma nessuno fa una dichiarazione per aiutare le forze dell'ordine, a chiunque sia, a cercare di trovare chi attenda alla loro vita, perché magari c'è il solito discorso, tanto non ha riguardato me personalmente. E questo è un passo molto molto difficile che nemmeno con l'attività dell'associazione anti-racket, l'ho detto ieri, con la quale abbiamo raggiunto i risultati eccezionali dal punto di vista delle denunzie per il racket, l'usura e le imposizioni, invece sotto questo punto di vista Gela purtroppo non risponde assolutamente, ci lascia molto spesso sole, anzi quasi sempre da sole, nemmeno una telefonata anonima, nemmeno un aiuto estemporaneo per risalire ed individuare un soggetto del genere, che ripeto, già aggravato da precedente penale, ma lo abbiamo dovuto trovare, individuare e bloccare solo ed esclusivamente con le nostre forze. Ma lei crede che tutto sia riconducibile ad una vendetta oppure c'è dell'altro? Sono due soggetti inseriti nel campo criminale gelese da parecchio tempo, malgrado di ciò con la direzione della procura di Gela e la collaborazione della squadra, stiamo valutando a 360 gradi tutte le ipotesi investigative che ci siamo proposti di valutare. Posso chiedere la cura dell'ipotesi investigative? Diciamo eventuali dissidi per un traffico di stupefacenti che, soprattutto il ferito e anche il soggetto che ha sparato, sappiamo che gravitano nell'orba del mondo degli stupefacenti.